Più di 20 bandi per oltre 50 milioni di euro sono le opportunità di formazione che nel 2018 in Toscana sono rivolte ai cittadini, i giovani prima di tutto, con i corsi post diploma e di alta qualifica, alle imprese con la strategia industria 4.0 e alle agenzie formative. Opportunità illustrata in un convegno organizzato nella sede della presidenza della regione toscana a Firenze. Rispetto al passato, ha detto l'assessore regionale al lavoro Cristina Grieco, c'è un cambio di prospettiva. Cambia il paradigma, cerchiamo veramente di far dialogare tutta la filiera formativa con la filiera produttiva, cioè con il mondo del lavoro, perché insieme individuino quelli che sono i fabbisogni formativi e perché insieme coprogettino anche gli interventi, quindi questo per evitare che ci siano magari degli interventi che non sono poi utili alle imprese e quindi anche ai cittadini in fondo. Due pilastri della strategia della regione in tema di formazione, agenzie formative e filiera produttiva che devono essere alleate per creare reali sbocchi sul mondo del lavoro con una priorità. Capire che cosa serve oggi, che cosa servirà domani, anche per riqualificare i lavoratori che magari sono fuoriusciti dai percorsi produttivi, oltre che i giovani, e su questa base poi andare a cercare le risorse per soddisfare queste esigenze. I risultati del modello toscano di formazione si vedono e fanno scuola anche in altre regioni italiane.